L'impegno di governo dell'attuale esecutivo Crocetta e la prospettiva delle elezioni regionali. L'intervista alla vicepresidente e assessore Mariella Lobello, Irene Milisenda. Il 2017 per la Sicilia rappresenta un anno politicamente importante. Oltre alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali, e dei sindaci di 140 comuni, tra cui Palermo, e alle elezioni politiche, che però ancora sono un'incognita, si voterà in autunno alla scadenza della legislatura, anche per il rinnovo dei rappresentanti dell'Assemblea regionale siciliana, che saranno 70 e non più 90, e per le elezioni del nuovo presidente della regione. Le forze politiche tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, solo per citarne alcune, sono già al lavoro. Nell'ambito del centrodestra sembrano salire le quotazioni della candidatura alla presidenza della regione e dell'ex ministro per le pare opportunità e dell'ambiente Stefania, Presti Giacomo. Sul fronte 5 Stelle tutto sembra girare intorno a Giancarlo Cancelleri, che però dovrà essere designato dalla consultazione su web. L'attuale presidente della regione, Rosario Crocetta, approfittando dello stato confusionale del PD, di chi ancora deve metabolizzare la sconfitta referendaria, ha annunciato la ricandidatura, lanciando il suo nuovo movimento, Astag Riparte Sicilia, che somiglia tanto al Renziano, Astag Italia Riparte. E Crocetta ribadisce, è un progetto di grande cambiamento, a difesa della Sicilia, dei tanti surprusi che continua a subire. E la vicepresidente della regione, Mariela Lobello, assessora alle attività produttive, condivide e rilancia. Crocetta si ricandida con... non è un nuovo partito, è semplicemente una federazione, Riparte Sicilia è proprio questo. La Sicilia aveva bisogno, quando è arrivato il governo Crocetta, i suoi conti non erano affatti a posto, eravamo sull'orlo di un baratro. Oggi invece abbiamo non solo i conti a posto, abbiamo il bilancio a posto, abbiamo una prospettiva di futuro, abbiamo una sanità che ha finalmente un dato positivo, si possono fare le assunzioni. insomma diciamo che davvero è cambiato tutto. In Sicilia è cambiato tutto, quindi siamo pronti per ripartire, per poter utilizzare le tante risorse che stanno arrivando, sapendo, partendo però da un presupposto, finalmente la Sicilia ha i conti a posto.